E' un'altra tappa di questa grande tappa di riflessione, ma anche di preghiera per alcuni aspetti, sulla felicità. Educare alla felicità, si è possibile educare all'amore. Educare vuol dire trarre fuori, fuori, chiedo scusa, mettere fuori da quello che noi abbiamo dentro. E allora, se come abbiamo detto, ognuno di noi, ogni uomo su questa faccia della terra ha il desiderio di essere felice perché ce l'ha dentro, ce l'ha impresso nel cuore, allora dobbiamo educarci ed educare alla felicità. Come e in che maniera? I modi sono tanti, certamente non sono le parole, ma sono i fatti o le parole che nascono dai fatti o parole che accompagnano i fatti, perché altro sono le parole a cui seguono i fatti e altro sono i fatti a cui seguono le parole. No, sono entrambi i modi di educare in tutto nella vita. E in questo nostro tempo abbiamo veramente bisogno di riprendere la passione, lo stupore di educare ed educarci. Ma educare non vuol dire né imporre né imporsi. Direi che quando io mi educo, automaticamente educo gli altri. No, torniamo a quello che abbiamo detto qualche tempo fa, la testimonianza di vita è educare, educare e stimolare gli altri alla felicità e far sì che l'altro si chieda ma perché lui è felice e io no? Come ha fatto lui ad essere felice e io no? È questa inquietudine del cuore che dobbiamo sapere accendere in noi stessi ogni giorno e poi automaticamente la nostra vita aiuterà gli altri a far sì che gli altri riflettano nel loro cuore e siano sanamente inquieti, siano sanamente inquieti per poter essere felici. Educare alla felicità e prendiamo un maestro di educazione, un maestro di felicità ma un maestro tanto contestato anche dalla Chiesa, soprattutto dalla Chiesa, soprattutto dai preti, soprattutto dai suoi confratelli ma di recente, grazie a Dio, in un certo senso riabilitato, Don Lorenzo Milani, famoso per la sua lettera a una professoressa. Bene, nella lettera ai giudici, perché dobbiamo sapere che, vi ricordo che lui è stato condannato per aver invitato alla disobbedienza civile attraverso l'obiezione di coscienza, nella lettera ai giudici scrive, su una parete della nostra scuola c'è scritto grande, high care, che in inglese significa mi importa, che in inglese significa me ne ho cura, dice in questa grande scuola, su questa parete c'è scritto questa frase, high care, è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore, è il contrario del motto fascista, me ne frego. Ecco una riflessione che nasce dalla storia, dovete sapere che nel tempo del fascismo c'era questo motto, me ne frego, invece Lorenzo Milani contrappone high care, di questo continuiamo a parlarne domani, Padre Pio TV dritto al cuore, ciao a tutti!